buongiorno ragazzi oggi non vi faccio vedere un nuovo modello bensì una nuova configurazione che per ora non l'avevo mai fatto sulla leonardo 8x10 ovvero la combinazione tra fibra di carbonio e legno di olivo buongiorno ragazzi allora oggi il video sarà breve vi farò solo vedere esteticamente quello che cambia rispetto alle due versioni che abbiamo visto già in presidenza ovvero la prima che la prima leonardo che ha visto la luce è stata quella in legno di cipresso vi metto il link da qualche parte e il secondo modello invece è quello di iroko anche questo da qualche parte vi metto il link già presentati alcuni alcune settimane fa quindi tecnicamente anche questa fotocamera non cambia rispetto alle precedenti cambia soltanto la configurazione estetica dovuta il fatto che il carbonio è veramente gazzo e soprattutto il fatto che diventa unica questa è una fotocamera unica per via delle venature dell'olivo grazie a tutti